Siamo in compagnia di Gualtiero Bazzana, presidente di ISTQB. Buonasera, dottor Bazzana. Una domanda. Se lei dovesse riassumere in poche frasi il ruolo dell'information technology, inteso nel più ampio concetto di sharing economy, come lo definirebbe? Bene. La sharing economy, come sappiamo, è un fenomeno molto pervasivo che si fonda pesantemente sull'information technology, perché l'information technology rappresenta la piattaforma sottostante a qualunque tipo di servizio che poi viene erogato e che diventa un tassello di questa sharing economy. Quindi sicuramente l'IT diventa un fattore abilitante, se vogliamo una commodity, ma una commodity fondamentale per poter affacciarsi sul mercato della sharing economy. Questo è un aspetto che i consumatori percepiscono, percepiscono chiaramente, quindi richiedono delle applicazioni sempre più affidabili, sempre più usabili, sempre più semplici da utilizzare, quindi aspetti come l'ergonomia, l'usabilità, l'affidabilità diventano fondamentali. Quindi questo si innestra sul paradigma più ampio della trasformazione delle information technology, quello che chiamiamo la digital economy, di cui il tema di cui parleremo l'Olivetti Day è sicuramente una componente importante. Al di là di questo aspetto, se vogliamo, un po' gergale, un po' per addetti ai lavori, quello che vorrei sottolineare è come questo fenomeno sta portando un forte impatto positivo sul mondo dell'occupazione e del lavoro. Il mondo dell'information technology è oggi probabilmente uno dei settori con la più ampia occupazione, giovanile in particolare in Italia, un settore che sta crescendo al 3-4% anno su anno, mentre la nostra economia, come sappiamo, ha dei tassi di crescita molto più bassi per essere eleganti. e quindi vediamo in questa convergenza di fenomeni come la sharing economy, l'IoT e il digital un fenomeno sia di maggior modernizzazione e se vogliamo anche semplificazione dell'utilizzo della tecnologia da parte delle persone e un meccanismo per incrementare il lavoro soprattutto dei nostri giovani e questo è per me un aspetto ovviamente fondamentale. Proprio parlando di giovani, visto che domani una gran parte del nostro pubblico dell'Olivetti Day sarà rappresentato da giovani, da studenti, da universitari, ecco qual è il messaggio che vorrebbe lanciare loro, che vorrebbe che l'Olivetti Day lanciasse a questa fascia di utenti? Allora questa fascia di utenti, penso che l'Olivetti Day dia un grande contributo perché consente appunto di affrontare dei temi così importanti con relatori sicuramente importanti che avremo l'occasione domani di ascoltare, dando un messaggio che queste tecnologie sono tecnologie abilitanti per tutti peraltro dire che ragazzi giovani, millennial, non hanno bisogno che glielo raccontiamo noi anzi sono il motore di questa trasformazione, di questa rivoluzione e che in questo non è soltanto un cambio di paradigma tecnologico ma soprattutto un cambio di stile di vita e questo è secondo me il vero messaggio perché come sappiamo la Sharing Economy porta aspetti di risparmio ma anche aspetti di ecosostenibilità, aspetti proprio di cambio di stile di vita per cui mai come oggi probabilmente il valore del tempo e della libertà individuale possono essere apprezzati grazie a questi supporti della Sharing Economy e dell'IT sottostante.